E' balzata la notizia, sulle cronache rosa, dell'addio tra Michelle Unziker e Tommaso Trussardi. Dopo dieci anni d'amore, i due si sono lasciati. La notizia ha fatto il giro del web in man che non si dica. Ma è di poco fa, una confessione inedita di Michelle. Non tutto è oro quel che luccica. Scopriamo insieme quale verità ha confessato. Michele Unziker e Tommaso Trussardi facevano coppia fissa ormai da dieci anni. A coronare il loro amore, l'arrivo di due splendide figlie, Sole e Celeste. Lei una showgirl e presentatrice amata dal pubblico, e lui il rampollo di una nota casa di moda. Un amore da favola. Ma le cose a volte non sono così perfette come si presentano, e anche il rapporto più sereno può presentare delle ombre. Sembra strano, siano arrivati al capolinea. In tantissimi si sono chiesti cosa mai sia successo. Ma a parte qualche gossip di un presunto tradimento, non si è giunti a nessuna certezza. Ma cosa avrebbe rivelato? Una verità che insegna molto a tutti noi. E da poco stata pubblicata un'intervista, al settimanale Chi, di Alfonso Signorini, dove la bella Michelle, ha parlato a cuore aperto, circa la sua situazione sentimentale. Con parole sincere e profonde, ha dichiarato che il momento difficile, che lei e il suo ormai ex marito stanno attraversando, lo stanno affrontando, con forza e rispetto. Il nuovo percorso che hanno intrapreso, non rovinerà mai quello che di buono hanno creato. Un nuovo, ma diverso amore adesso li unisce, anche se li porta a non stare più insieme. Parole belle, che insegnano molto, a tanti che come loro, si sono lasciati con astio e rancore. È chiaro, che solo i diretti interessati possono conoscere nel profondo, il perché della fine del loro matrimonio. Ma Michelle si è detta pronta a dare all'amore una nuova opportunità, e si dice disponibile ad aprire di nuovo le braccia. Ha questo sentimento. Il lavoro nel frattempo sta dando non poche soddisfazioni alla showgirl, reduce da un programma tutto suo, Michelle Impossible. Un format che l'ha vista condurre e ospitare moltissime personalità del mondo dello spettacolo. Tra questi, anche il suo primo amore. Vi ricordate chi è? Il grandissimo Eros Ramazzotti le ha fatto il piacere di partecipare, cantandole ancora una volta la canzone a lei dedicata, più bella cosa. La domanda sorge spontanea. Con nuova maturità e consapevolezza, non può essere che quel grande amore risbocci? A voi i commenti!